buongiorno a tutti e grazie ad amcam per l'invito a condividere la nostra visione di quello che stiamo vivendo in questo momento la nostra azienda così come tutto il tessuto economico del paese è messa alla dura prova da questa emergenza ma ancora di più è messo a dura prova il benessere dei lavoratori e dei cittadini di tutta italia per questo motivo il nostro primo pensiero ogni giorno sin dal primo giorno è prenderci cura delle migliaia di persone che lavorano per noi condividendo con loro tutte le informazioni la vita di noi tutti è cambiata radicalmente anche la mia sia nel privato sia nel lavoro da fine febbraio ogni mattina da casa mi riunisco virtualmente con il nostro comitato di crisi con due obiettivi tenere tutto il nostro sistema informato e allineato e fare la nostra parte anche in un momento come questo così delicato ne sono un esempio la donazione di un milione di euro che abbiamo destinato alla costruzione del grande ospedale della fiera di milano o la collaborazione con enti e associazioni che sul territorio si occupano di distribuire alimenti e pasti caldi ai più bisognosi ma pensiamo già anche ai vicinari del dopo a come ripartire in un mondo che sarà diverso da quello che abbiamo conosciuto fino a poco tempo fa questa situazione sta mettendo in luce anche alcuni aspetti positivi direi in primo luogo l'energia la voglia di combattere i razzi del nostro paese in secondo luogo dal mio osservatorio vedo quanto sia stretto il legame tra l'italia e gli stati uniti testimoniato dalle tante aziende americane che non si sono limitate a portare qui il loro marchio ma che in italia investano creano legami con il territorio danno lavoro creano ricchezza e offrono solidarietà aziende che a tutti gli effetti possono definirsi orgogliosamente italiane grazie un caro saluto e a tutti voi buona pasqua grazie mille ciao